io voglio la cerimonia di mio cugino è stasera stasera lo scopriremo chi vuole sapere? io faccio parte dei mitici madri e non mi darete mai tre con te la vicina ai tuoi cassetti abiletti pause andiamo c'è una generazione c'è un più musica e sua personalità e come gli altri delle costellazioni ognuno brilla c'è un'unica e solo a due e anche però dirige egregiamente questo show e lei che ha cominciato tutto ciò lasciate che ve li presenti un po' dunque siamo da sette di madrigal il mondo che abbiamo è madrigal e stiamo qua lo so che suona un po' fantastico e magico e il caffè alla vostra età fa male mia mia bella è male io lo so nello quanto è felice che per me è burocchia mio figlio è bruno non si nobita bruno non si nobita bruno non si nobita bruno ma il giorno è burocchia c'è mia mamma anche se solo lei quali c'è con il cibo tra i miei sono saggio e storna un po' ok siete sorpresi beh anche io dovrei mamma se avrà sempre in madrigal che voglia di amore a tecare e come io lo so che sono fantastico e magico la mia è la stiglia in madrigal nella storia di la stiglia in madrigal e tra l'altro sono la stiglia in madrigal io sei mi sposo per maledà ma sposo julietta così a quella e mia sorella madrigal ecco ecco ha chiamato il cuore con la nostra gente qui tutto costerà continuamente è comodato ha meritato in tempo e deviazione lo hanno salvato al dato avrà la protezione di ogni nuovo arrivato si è la sua e lecce la cucina sono veramente troppi ho scusato ogni popolo è ok è ok noi abbiamo tanti nipoti ora siamo il volume che vogliamo fare per me le cose per me le cose la cucina d'amore per degli figli il cammino muta a storia suona non si sa le mie sorelle il sorella che non si sa non penso che la macchia e loro guarda non penso che la tin mazza Iscriviti al nostro canale